Musica Musica Bulleri a centro aria di pura esperienza Il canestro con una mano setosa da parte di Massimo Bulleri Riporta subito a contatto la Reier Da servito Bulleri 8 secondi sul cronometro del 24 Si alza Bulleri E mette a segno un canestro dei suoi Bulleri cerca la penetrazione Ballegge il restettino di Bulleri La classe di Massimo Bulleri C'è D'Asto, la intercetta Ibiri Il recupero di Heather Banks Che lancia il controfiede Maresino Finta il passaggio Poi è stoppata di Bulleri Grazie a tutti Grazie a tutti